Il segreto, puntata giovedì 20 aprile 2017, Cristobal semina il terrore. Anticipazioni. A Puente Viejo sono tutti terrorizzati dalla presenza di Cristobal Garriguez e nella puntata Il segreto di giovedì 20 aprile 2017 vedrete che emergeranno ancora di più i dubbi sul suo arrivo in paese. Francisca decide di saperne di più, mentre Nicolás e Mariana ricevono la triste notizia della morte di Donna Fuensanta. Prima parte. Cristobal semina il terrore. Mentre Onesimo fa di tutto, soprattutto dopo che è emerso che i conti del municipio non sono in ordine, per entrare nelle sue grazie, anche a costo di denigrare suo cugino Ippolito e facendo da spia. Cristobal decide di stabilirsi presso la locanda di Emilia. In paese, intanto, serpeggia il terrore, anche e soprattutto a causa dei suoi modi autoritari e dispotici. Quello che ancora non è chiaro è il motivo per il quale egli sia arrivato a Puente Viejo, e perché abbia questo comportamento. Seconda parte. Situazione ambigua. Dopo un colloquio con Raimundo, Francisca, preoccupata, decide di andare personalmente a parlare con Cristobal per capire quali sono le sue vere intenzioni e perché è stato mandato in paese. In realtà, Cristobal potrebbe essere stato mandato dal governo proprio per rilasciare su richiesta della Montenegro gli uomini arrestati, ed il fatto che egli resti a Puente Viejo potrebbe essere la condizione da rispettare. Nel frattempo, il Garrigues ha deciso di parlare con Ernando, che, però, lascia intendere di non aver affatto intenzione di fare patti con lui. Ultima parte. Lutto per Nicolas. Brutte notizie sono intanto in arrivo in casa Orthuno. Nicolas riceve infatti un telegramma da Munia, la città dove vive la sua famiglia. Purtroppo è accaduto qualcosa di veramente molto triste, donna fuensanta, sua madre, è venuta a mancare. Dunque Nicolas e Mariana partono immediatamente per assistere al funerale della nobile donna, la Castaneda resta accanto al marito nonostante la donna si sia comportata in maniera davvero moto meschina nei suoi confronti. Presto saranno chiare le intenzioni di Cristobal Garrigues, e possiamo garantirvi che non lasceranno presagire nulla di buono, specialmente per quanto riguarda Francisca Montenegro. Non perdete le prossime anteprime della telenovela Il Segreto per scoprire cosa succederà tra la matrona e il nuovo arrivato in paese. Grazie. 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 Grazie.